Musica Miglia dell'asta alla mesa di Eما con .... ... ... ... ... ... ... ... non c'è una cosa che non ha fatto. E il comodale viene si fa? Il comodale viene a fare una scuola, qui è qui. E' lo stesso. E' un'isperto? E' un'isperto? E' un'isperto? C'è un'isperto? 5 minuti, rius, tutto ciò che è pronto. E' stato s'attivate a te? Non c'è un'isperto, io ho ammolto tutto ciò. E' un'isperto? Sì Sì ... Era un po' di più, quindi era un po' di più. Mi ha detto, non è tutto quello che mi ha detto. Il mio amore è stato un po' di più. Non è un po' di più. Mi ha chiesto di te. Mi ha chiesto di investire. E? Non ho detto. No, è tutto. Guarda, l'argomento è successo. Non è successo sempre. Non so, non so, non so, ma signore il mio amore. Ma l'amore è il mio amore. Ma l'amore è il mio amore. Ma il mio amore è il mio amore. E mi ha chiesto di andare con me anche. Ma che ho parlato, non ti senti qui. Non sono ancora tornato. Tu senti? Ma l'amore è il mio amore. Tu mi senti? Certo, mi sono arrivato alla ragazza. Asciutto, l'amore. Sì, hai ragione? Assalamuali, hai ragione. Hai ragione? Ah, hai ragione. Alhamdulillah. Hai ragione di tepare un'altra? Ok, ho diciamo una cosa. Mi sono portatevi al ragione e parlare in segno. Guarda, la ultima è il riuso non si è raiato. Perchè non ti senti nessuno e non ti senti. Ok? Salamate, hai ragione. Hai ragione. Hai ragione, hai ragione. Hai ragione. Ma è sicuramente afforata S pengete Uri din bilzia Ti resta mess Cosa che insegnrate Cosa Serve una cosa Sist couch tu hai chiamato? ci hai chiamato? Dopo che hai chiamato che hai chiamato? Hai non c'è messo? Hai chiamato una notizia che si è chiamato? Non c'è un po' di nonostante, ma non posso farlo? Può. Non posso vedere se ci mette una gianza, No, io sono un progetto. Mi hai ragione di vedere. Adesso! Non ti non mi ritrovi al mobile? E io mi senti a cercare la tua, perché? Mi fanno andare a la giamata? Mi fanno andare a la giamata in un'arabita, come come? Non, ma non mi fanno andare a la giamata in un'arabita. Oggi è il mio mio, è la mia! e ho detto che io ho detto che ho fatto riempire di metri e nel mì e nel metro e nel terzo il gioco e il gioco ha fatto. Ma sei che tu hai mai mai avuto il metri e che tu sei un amore che mi ha riuscito con il mia amore E che tu sia un amore che tu sei tutto da quello che tu sei per l'amore della tecnica e quindi io ho detto che tu sei per il metri e che tu sei come ho detto? Ma sei che tu sei che tu sei anche l'amore che stai conci conci? E perchè ti sei mai? Ma sei che sei che hai mai vediato? La mia amore che non ti fai male di qualsiasi? Posso che stai per il metri o è un uber? OBER طبعا! C'è un'opertion da' da' un'opertion. Eccolo! Eccolo! C'è un'opertion! Tu mi aggrazi bai azzaminto. Mi accerci con te il giorno d'oro. Ma tu mi aggrazi. Ma tu se voli a fare una cosa, ma tu mi guardi con te iniziare. Sindal! C'è un'è 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 un'è? C'è un'è 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 Et c'è un'è un'è un'è? Oh! Attèflu un'è un'è? Quant Pittè azzaminto. Ah Timothy. Utaunawa, Calla ma harfa quen vena et overturn significance yep! Pet защit Valentinevestri qui配下?! Celui qe par ella talle Quesud. Il rodzice Ty achtemini split la W''è un'è 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 again! Alla' annavaol toute jaunlik! Il n'waldria un'è 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 un'e un'è un'è un'è? Tu mi parla? Noi, ho fatto il mio chassi. Ah, mi dico lì. Mi dico lì. Il bittà che tu hai giù, è erbittà. Chi ti dà guardare? È erbittà. E' erbittà. E' la mia riazzata. Ma la mia è iniziata a lì. Ma la mia è iniziata a lì, tu hai capito? Mi sono? E' la mia. Mi parla. Mi parla. È una cosa che si è venuto a fare lì. non è un po' di più Cosa è un po' di più? Mi chiede l'arrivo Cosa Cosa Mi chiede Mi chiede la mia amore E' un po' di più 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 Ma c'è un po' di più Perchè Perfetto Cosa 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 Ollà, Ghalid, ho fatto una scuola di camera, e c'è un video molto importante che si vedi. Ci sono delle informazioni? Mi sembra di fare un video, ma anche se è un video. Ok. C'è un ruolo? Non, ma ho fatto un video e ho fatto un video. C'è un'è 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 un'è? C'è un'è? C'è un'è 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 un'è? C'è un'è? C'è un'è un'è un'è? C'è un'è un'è? Hoche la mia visita? rate due? zu allora mi ragazzi? Ud Miss dental? tu to Bello, non tengo problemi dire al front te ti pinto bumper me,אשi Che non haiчивo? Massimo. Assistenciavo. Alla c'è rima, Il Zanamile, non hai vissuto Gentleman. Sembra. Salami, sì, Aakha, salami. In ogni cosa? Si è mai... dunque c'è una cosa più telefono, ti metto e ti metto un'oc Distanz. e ti metto sui male e ti metto un po' di risponderò? Mi sono cominciano ad un'arrivo? Non c'è qualcosa che mi sia chi era il nostro? Cosa è il почему? Divanti la tranne nella terra. Ma c'è un c'è un carro molto, mi ricordo? Non c'è un c'è. C'è un c'è un c'è un c'è, oi, tu non ti senti a tutti i c'è? Ma sentite la mia cosa che ho fatto, è un cazzo? Ma sentite, non sentite. Ma sentite, non sentite. Ma sentite! Ma sentite l'anno che ho sentite? Ma sentite? Ho sentite? Ma sentite la mia? Ma sentite? Non sentite? se non mi asima binti se non mi asima binti